gentile pubblico di spazio tesla di radiosound 95 piacenza 24 un benvenuti a tutti sui nostri canali sulla nostra pagina facebook sulle nostre pagine facebook diamo subito il benvenuto a rita padrona di case di radiosound piacenza 24 buonasera a tutti e buonasera al nostro ospite dottor massimo citro buonasera laura buonasera albergo buonasera 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 a tutti bene puntatona io direi che abbiamo già abbiamo già iniziano già arrivare i primi commenti quindi sono scalpitanti perché un ospite come il dottor citro che ricordiamo abbiamo avuto graditissimo ospite nelle nostre edizioni di medicina e fisica quantistica ha accettato molto volentieri di venire a parlare sui nostri canali di un bellissimo progetto il suo nuovo libro laura a te no beh rita che abbiamo annunciato il dottora massimo citro che è dottore in medicina e chirurgia dottore in lettere classiche specialista in psicoterapia massimo citro vive e lavora a torino è ricercatore scientifico ed è anche lo scopritore del tff che è il trasferimento farmacologico frequenziale è fondatore direttore dell'istituto di ricerca sorti idras è il socio del club di budapest fondato da erwin laszlo che da due volte candidato al premio nobel per la pace ha pubblicato diversi libri e questa sera ci occupiamo della sua ultima pubblicazione però citando alcuni delle pubblicazioni che ha fatto in precedenza vorrei proprio citare quello dove c'è anche la prefazione del premio nobel per la pace laslo che è the basic code of the universe e poi c'è la scienza dell'invisibile e il coautore e niente meno che masaro e moto poi ovviamente sono tanti altri libri che sono stati scritti dal dottor citro l'ultima pubblicazione recentissima è eresia che è uscito appunto da non molto però sta andando benissimo pare che stia ormai raggiungendo le diecimila coppie quindi ormai un best seller eresia anche un sottotitolo che è riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di cobit 19 con la prefazione di alessandro meluzzi sul diciamo che è una libro che parla di virus parla ovviamente di questo periodo che stiamo vivendo parla di virus parla di coincidenze parla di fatti parla di effetti psicologici tra i quali la paura il terrore ma parla anche di una insomma di cose che potrebbero essere considerate un po complottistiche mi permetta dottore perché immagino che tante altre persone le avranno probabilmente fatto l'appunto di quanto alcune cose che sono riportate nel suo libro sono poi quelle che vengono considerate le teorie complottistiche che stanno girando da quando è uscita la pandemia cobit 19 io adesso darei però la parola a laura per cominciare quelle prime domande velocissimamente intanto tanto le prime domande daremo spazio al dottor citro per illustrarci questo libro volevo partire dal titolo eresia perché è una parola eretico che ha sempre i più conoscono come come un'accezione negativa invece nella sua origine eresia voleva semplicemente dire scelta quindi capacità libero orbitio scegliere e poi con l'avvento di di una determinata corrente cattolica questo e non solo ha preso questa connotazione negativa quindi il titolo eresia di fatto qualcuno potrebbe interpretare in maniera negativa ma in realtà non è così volevo ricordare che la rivincita di questa parola è stata data nel 2014 da don ciotti il quale appunto aveva restituito dignità questo e valore positivo questa parola dicendo in un raduno di giovani vi auguro di essere eretici è il suo invito che ha portato i giovani quindi anche noi attraverso anche il libro del dottor cidro auguriamo a tutti di poter essere eretici prego dottore grazie intanto è un grandissimo onore un piacere tornare con voi e direi che oltre a essere eretici l'augurio è proprio quello di essere politicamente scorretti che vedete la questa dicitura che va di moda da tempo fa parte della neolingua del sistema attuale va a coprire le verità cioè essere politicamente corretti oggi vuol dire continuare a portare avanti delle menzogne in generale e allora essere un po nella mente scorretti vuol dire cercare la verità il libro nasce proprio da questa esigenza di cercare la verità lo so che la seconda parte che è dedicata al sistema e può essere interpretata come complottismo ma non c'è nulla di complottistico e o di inventato nel libro è tutto documentato è un'analisi storica quella della seconda parte e fa vedere come nasce questo pensiero oggi dominante di queste elite che sono il configurano l'oligarchia tecnocratica che oggi comanda il mondo come nascono storicamente ancora note le radici nel 1700 e poi nell'ottocento con la fabian society e poi sono descritte anche le più importanti diciamo strategie di propaganda di condizionamento delle masse e questo è importante che si venga a sapere perché quando il sistema ci dice attraverso la propaganda determinate cose sapendo quali sono le strategie che sta mettendo in atto riusciamo a capire che non sta dicendo la verità e attenzione che ci sono poi anche sempre nel condizionamento i famosi catalizzatori emotivi che sono a volte delle semplici parole messe ad arte e devono poi muovere certe emozioni come ad esempio il senso di pietà o il senso di colpa la paura stessa quindi a volte basta veramente un piccolo particolare per giocare a livello psicologico in maniera negativa ci sarebbe molto da dire su questo ma non so se volete possiamo cominciare a raccontare perché questo tratto lo faccio vedere visto che ce l'abbiamo qui ecco queste maschere drammatiche molto molto bello perché 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 all'inizio ho detto che questa è una rappresentazione e questa rappresentazione per molti purtroppo è stata una tragedia per altri può essere una commedia per molti può essere una farsa cerchiamo di capire quale sia la sua vera identità ecco perché la maschera di dolore di gioia un po si alterna ma poi riprende il tema anche delle maschere di questo sistema che con il suo buonismo con il suo politicamente corretto continua a mascherarsi ma tutto bene noi siamo un noto filosofo francese noi siamo affetti da un bene incurabile a tutti i livelli quindi bisogna veramente scrollarci di dosso questa ipocrisia e cercare la verità ecco dov'è l'eresia quindi il libro nasce dalla necessità di capire intanto c'è la curiosità anche del ricercatore sono di fronte a un virus nuovo completamente nuovo con tantissime caratteristiche particolari e c'era la necessità di capire come curare i pazienti può dire oggi e che interessa penso di più la gente nel pratico che questa malattia e questo è dimostrato non c'è nulla di fantastico questa malattia può dare nel 90 per cento circa dei casi una sindrome di tipo influenzale può essere anche paucisintomatica c'è molto sfumata fino anche a forme più forti anche pesanti che si protraggono per settimane però non è mai pericolosa non di per sé se si limita alla forma mild come la chiamano gli anglosassoni non porta alla morte non c'è pericolo e però un 10 per cento circa di questi malati possono evolvere a volte anche nel giro di poche ore o giorni nel nella forma severa che è quella che poi richiede ricovero in ospedale e tutto quello che noi abbiamo visto attraverso i media eccetera e può portare anche alla morte quindi bisogna evitare di arrivare a quella forma severa complicata noi sappiamo che tutte le influenze tendono a complicarsi comunque influenza stagionale può evolvere in una polmonite però qui l'evoluzione è molto più grave tipo di polmonite e tromboembolie e praticamente è una malattia nella sua forma grave cosiddetta multi organo perché può colpire qualunque organo dell'organismo quindi la non è importante come si continua a propagandare da più di un anno cercare di evitare il contagio il contagio è impossibile bloccarlo nel caso di un patogeno come questo che è estremamente contagioso cioè o lo si tiene fuori dai confini di una nazione come ha fatto ad esempio taiwan che non l'ha fatto entrare e se l'ha cavata con sette morti e 496 infettati sono dati ufficiali di taipei che troverete sul nel libro oppure una volta che è entrato non ha senso fare queste chiusure noi praticamente siamo da più di un anno in quarantena continua e non ha nessun senso perché non abbiamo visto né la riduzione del numero dei malati e dei morti anzi siamo pari la nazione in proporzione a più più morti rispetto alle altre ma neanche la riduzione del tempo di contagio di epidemia quindi se noi paragoniamo quello che ha fatto l'italia con ad esempio altri stati che non hanno fatto chiusura prendiamo la svezia che quella più citata non c'è differenza quindi non esiste una come dire una giustificazione dal punto di vista clinico scientifico a questa continua ossessiva per non dire isterica chiusura che sta mandando sull'astrico migliaia di famiglie che stanno andando sull'astrico l'italia stessa per non citare poi tutto l'aspetto depressivo psicologico della gente che ormai si sta abituando a vivere isolata distanziata ognuno per sé homo homini lupus aggressioni uno con l'altro hai la mascherina non ce l'hai sei un autore cioè stanno seminando veramente il terrore ma anche l'aggressività è proprio l'opposto di quello che un sistema corretto dovrebbe fare le ansie le paure insomma abbiamo visto un po tutti questa situazione allora tornando dal punto di vista clinico si può prevenire e si può anche curare allora la prevenzione che ho visto che di solito è quello che interessa di più nel pratico la si fa con determinate prima di tutto con la dieta questo è una cosa molto importante che il sistema ha omesso di dire mi riferisco proprio cts mi riferisco all'aifa l'SSN e a tutti i vari organi del ministero della salute e quant'altro cioè la medicina più saggia quella di un tempo ha sempre detto questo quello che importa è il terreno biochimico del paziente ovvero due persone una intossicata e l'altra no faccio un esempio molto schematico che vengono esposte alla stessa carica virale in questo caso uno si ammala l'altro no perché perché quello è intossicato e quindi si ammala intossicazione vuol dire che abbiamo un numero una quantità di tossine quindi di veleni nel nostro corpo superiore alla capacità di smaltimento ed ecco che allora il patogeno diventa addirittura per il nostro corpo un un fatto benefico come sua partenza perché perché svolge la funzione del fiammicro che deve accendere il grande fuoco infiammazione e deve depurare il nostro corpo da tutti questi rifiuti accumulati queste sono questi sono concetti di fisiologia che risalgono ancora al 1800 non sono mai stati smentiti posso citare uno dei più grandi quindi questo andava ricordato sia i pazienti sia i medici e disintossicate i vostri pazienti metteteli a dieta e medico poi deve sapere per ogni suo paziente cosa vuol dire mettersi a dieta e come drenarli ovvero come disintossicare dopo di che ci sono delle sostanze molto semplici e anche economiche che possono aiutare a prevenire l'infezione o comunque a non evolvere verso la forma grave e prima di tutto la vitamina d3 la quale è così stata fino all'anno scorso bistrattata dal sistema che l'ha addirittura bollata di poter essere tossica in dosi fisiologiche peraltro e che invece è stata rivalutata per fortuna da questa situazione pensate che dopo un anno circa di idemia ci sono più di 300 studi pubblicati che attestano il ruolo benefico della vitamina d nella prevenzione anche nella cura posso citare l'ultimo studio pubblicato a gennaio da giannini a padova su questo e parliamo di casi che erano già ospedalizzati già gravi quindi noi abbiamo sui nostri pazienti in tutto questo anno abbiamo consigliato e abbiamo messi quasi praticamente tutti in protezione con 40.000 unità al giorno di vitamina d3 però attenzione protette da almeno 400 microgrammi di k2 che è una vitamina che evita il l'accumulo di calcio che potrebbe essere provocato da un eccesso di vitamina d3 quindi questo vedete anche la fisiologia la biochimica lo sta confermando perché queste complicanze della di questa forma severa di malattia sono quasi tutte direi con un meccanismo avvengono di tipo autoimmune molto simili sia la polmonite le tromboembolie ormai si sanno queste cose quindi uno dei mediatori le famose citochine che sono mediatrici della dell'autoimmunità oltre all'interleuchina 1 e la 6 sono quelle tipiche dell'infiammazione e alla famosa interleuchina 17 la cui grande antagonista è la vitamina d ecco spiegato uno dei motivi per cui la di funziona oltre al fatto che stimola la catelicidina che è una sostanza anti infettiva già di suo e insomma a tantissimi effetti che potete trovare poi eventualmente in dettaglio nel libro lo zinco è importante perché si sa sono tutte cose che si sanno da da tanti anni lo zinco ha un'azione sia di inibizione di quella che si chiama la clira smonco cigliari cosa vuol dire sono quei movimenti che hanno quelle specie di ciglia delle nostre cellule da apparato respiratorio che muovendosi scacciano tendono a scacciare i patogeni che cercano di aggredirle quindi tengono lontano fisicamente il virus ma soprattutto lo zinco cosa fa va a bloccare l'RNA polimerasi che è quell'enzima nella cellula che duplica moltiplica il virus RNA come questo e questo lo si sa da moltissimi anni quindi c'è da chiedersi perché non è mai stato detto durante la già dopo la prima sars quindi parliamo di 18 anni fa circa si sapeva ed è stato pubblicato sia il ruolo della vitamina d sia il ruolo dello zinco e anche della famosa idrossiclorochina e qui arriviamo al protocollo di Didier Raul quindi non siamo più nella prevenzione ma siamo nella terapia cosa dobbiamo fare dicevamo prima evitare che la gente che si infetta tenete conto che la maggioranza ha già avuto il contatto con il virus in maniera sintomatica ma quelli non sono malati quindi si risolve la cosa ma parliamo di malati quel famoso 90 per cento noi dobbiamo curare subito per evitare che evolvano nella famosa forma grave e qual è una delle cure migliori è il protocollo di Didier Raul di Marsiglia che comprende l'associazione di idrossiclorochina e di azitromicina il primo è un che serve a spegnere la tempesta citochimica che è la causa biochimica della della forma grave e questo è noto già in letteratura pazienti che soffrono malati autoimmuni gravi come ad esempio il lupo sulla trite reumatoide fanno uso di questo farmaco in dose più alte peraltro anche per tutta la vita comunque per decenni e spesso quindi la sua tossicità veramente minima soprattutto nelle dosi consigliate però si era visto già all'epoca della sars che in vitro l'indossiclorochina a ben tre azioni antivirali soprattutto sui virus da cui appartiene anche questo coronavirus si chiamano è una famiglia siamo al gruppo dei virus rna catena singola quindi a una scuola di questo genere anche su ebola zika sulla hiv ci sono le pubblicazioni riguardo lights e comunque tutti i coronavirus quindi la sars la merce la covi 19 anche il rsv virus ospiratore sinciziale o anche quello della dengue eccetera quindi si sapeva già qualcosa e ci si chiede anche lì perché non sia stato detto l'associazione però con la zitromicina che è un antibiotico ma poi adesso dobbiamo capire perché un antibiotico sia utile in questa fase l'associazione crea un sinergismo poi se ci si aggiunge anche lo zinco si crea ancora più forte questa sinergia e nel giro di tre massimo cinque giorni in genere abbiamo visto i nostri pazienti guarire con questa associazione si può dire che ci sono dei casi dove l'idrossiclorochina può essere controindicata casi costituzionali del paziente come il favismo o altre situazioni di tipo ereditario soprattutto se ci fosse una grave insufficienza renale o più frequentemente della ritmia cardiache paziente fa uso di anti aritmici in questo caso conviene non rischiare anche se per pochi giorni c'è un molto meno dell'uno per cento di rischio di problemi cardiaci però è meglio evitare si può usare il cortisone sempre anche in associazione con la zitromicina il cortisone è quello che più di tutti i farmaci che conosciamo spegne la famosa tempesta citochinica non ha parecolazione antivirale però è comunque un farmaco importantissimo in questo modo possiamo cercare di fermare questa questa infezione sul nascere però la terapia deve iniziare nelle primissime ore ai primissimi sintomi vedete a volte uno ha dei sintomi a specifici viene preso per un normale influenza perché esistono anche ancora le influenze stagionali non è che siano sparite tutto ormai sembra che sia covide qualunque malattia però esistono anche quelle allora io dico nel dubbio che possa essere l'uno l'altra conviene comunque iniziare la terapia e vedere nei tre giorni perché se covide nei tre giorni migliora subito se magari non migliora potrebbe essere qualcos'altro ma intanto male non gli abbiamo fatto e cerchiamo di evitare che volva in quella fase severa questo direi come discorso di base perché l'azitromicina è comunque l'antibiotico in generale questo è forse è l'antibiotico di elezione ma comunque perché usare un antibiotico nei casi di malattie virali di solito si dice si può prevenire le soffre infezioni batteriche no e c'è un altro motivo il motivo è che intanto anche l'azitromicina è un'azione antivirale soprattutto l'avevano pubblicato ci sono poi riferimenti su certi tipi di virus anche qui RNA a catena singola ma poi i lavori di Carlo Brogna che sono stati pubblicati a gennaio hanno dimostrato quello che altri studi negli ultimi mesi dell'anno 2020 avevano suggerito e cioè che prima di tutto i coronavirus questo si sa sono dei virus intestinali attenzione che non sono virus respiratori come è stato propagandato l'arrivo diciamo l'attacco al sistema respiratorio è secondario all'infezione intestinale quindi i virus i coronavirus sono sempre intestinali il primo attacco è liberato e soprattutto però si è visto grazie a Brogna che questi questo tipo di coronavirus il SARS-CoV-2 parassita i batteri intestinali poi non solo quelli intestinali ma diciamo il numero più grande di flora che abbiamo e li fa fare fa fare a loro quello che lui vuole cioè i veleni le tossine pericolose per il nostro organismo nella forma severa appunto sono prodotti dai batteri intestinali ma su indicazione del virus che si comporta come un fago vuol dire un virus che si è come se atterrasse sulla superficie del batterio e poi inoculasse come con una seringa il proprio rna e da lì poi comincia a duplicarsi ecco perché l'antibiotico può funzionare bene perché agisce bisogna agire anche sui batteri e io aggiungo anche i probiotici ecco di nuovo il discorso della dieta ecco questo è un po' l'inquadramento generale ma a questo punto mi chiedo i vaccini allora potevano anche essere evitati o sono importanti? Se andiamo sui vaccini poi magari finirò a tutta questa parte ecco dottore mi perdono un attimo perché intanto eh ci sono in cominciano arrivare alcune domande che poi magari vi girerò e tra l'altro me ne è arrivata una via whatsapp di un biologo proprio per l'ennesima morte per emorragia cerebrale a causa trombotica di una ragazza di Genova ma magari ne parliamo ne parliamo dopo prego dottore no per finire allora c'è ovviamente le parina nelle cure importanti da fare anche come prevenzione e poi vedete questa questi protocolli che sono stati costruiti e inviati ai medici a tutti i colleghi della mutua o dell'ospedale quindi attraverso il sistema sanitario nazionale sono veramente sbagliati sono io li ho definiti i protocolli di morte perché perché impongono di attendere per tre giorni come minimo prima di dare del cortisone allora i protocolli eh escludono a priori la idrossiclorochina e la zitronicina il perché lo troverete nel libro e c'è tutto il capitolo sullo scandalo del cosiddetto l'anset gate poi se volete ne parliamo che è una una questione a livello scientifico gravissime anche a livello etico e giuridico che è successa tra maggio e giugno dello scorso anno quindi hanno attaccato in tutti i modi l'idrossiclorochina e i derivati della china in genere perché sono tra i farmaci più efficaci nella combattere questo virus da una parte hanno escluso quelli dall'altra hanno detto il cortisone si può dare ma non prima di 72 ore perché non c'è una motivazione anzi se noi dessimo subito il cortisone o l'idrossiclorochina il paziente in 72 ore quasi sempre già guarito quindi c'è proprio una volontà chiara di far ammalare la gente e farla evolvere verso la forma grave e qui poi si aggiunge la ciliegina sulla torta che è il consiglio di usare la tachipirina il paracetamolo che è completamente sbagliato come idea perché non solo non serve ma può peggiorare e molte volte più delle volte lo fa anche a basse dosi la situazione già precaria del soggetto soggetto in uno stato parliamo dell'infezione lieve che può evolvere in quella grave non è in una situazione di iperossidazione dove ha in genere una carenza grave quasi tutti ce l'abbiamo se non lo si reintegra di glutatione ridotto che uno dei più forti antiossidanti ma anche un antivirale fortissimo e quindi la tachipirina che il suo antagonista nei giro di poche ore a volte può portarci al di sotto del livello di guardia di glutatione e quindi favorire l'evoluzione verso la forma grave tutto questo è in letteratura già dagli anni 80 ma non solo ultimamente e forse nel libro però non c'è perché è un articolo recente del professor piero sestili dell'università di urbino c'è proprio visto il meccanismo con cui glutatione riesce a ridurre l'affinità della proteina spike che è la parte più tossica e pericolosa di questo virus ai nostri recettori ac2 e va a bloccare l'aggancio diciamo del virus quindi è stato costruito veramente tutto l'opposto di quello che si dovrebbe fare per impedire l'evoluzione nella fase grave e sembra davvero che ci sia quindi una volontà di aggravare di creare un certo numero di morti per giustificare determinate azioni anche sul piano giuridico sul piano legislativo e così via quindi tutto questo dovrebbe essere poi studiato non da un medico ma dal magistrato perché non si giustifica allora o è un prodotto dell'ignoranza di questi esperti ma non credo visto che sono i migliori esperti che abbiamo oppure ci sono delle volontà ripeto non è complottismo e osservare i fatti qualcuno deve spiegarmi perché non si vuole curare la gente la gente se viene curata non evolve nella fase severa non sono l'unico a dirlo sono un sacco di colleghi che stanno certo aggiungo anche questo come contro risposta di solito dicono sì ma non ci sono lavori pubblicati randomizzati controllati in doppio secco eccetera che attestino questo vero però vedete di fronte a un'epidemia di fronte a una situazione grave come è stata dipinta questa attuale dove la gente muore chi se ne frega del fatto che non ci siano questi lavori è sul campo che quando c'è un'epidemia il medico deve agire e agisce con tutti i mezzi che a disposizione che ritiene in scienza e coscienza utili tanto più che tutti noi che abbiamo visto sui nostri pazienti ho parlato con tanti colleghi non siamo veramente una buona percentuale e tutti noi che abbiamo visto l'efficacia di queste cure beh nessuno di noi si mette lì a fare un uno studio in doppio secco e quant'altro perché non ci interessa perché siamo medici sul campo noi vogliamo aiutare la gente finisce lì quindi tutta questa esperienza che secondo me conta molto di più di tutti i vari studi pubblicati tutta questa esperienza se non la si racconta in questo modo si perde cioè è un passaparola fra colleghi guarda che funziona ecco quindi teniamone conto per arrivare al discorso dei vaccini è vero il vaccino per una influenza sia pur complicata come questa non serve per vari motivi prima di tutto perché come tutte le epidemie ha un suo ciclo non esiste nella storia finora documentata un'epidemia che sia durata più di due anni e siamo ormai già oltre l'anno e mezzo quindi entro l'autunno di quest'anno fisiologicamente l'epidemia dovrà finire nota a piedi pagina qualcuno dovrebbe anche chiedersi perché in cina da dove tutto è partito durata 3 4 mesi ed è finita lì e non c'è più stata la seconda la terza la quarta ondata e le varianti e tutto quello che a cui assistiamo qui qualcuno dovrebbe anche spiegarlo ma va bene comunque l'epidemia si risolve da sé quindi quando questi arriveranno a finire di vaccinare quello che loro vogliono fare l'epidemia sarà finita e loro diranno o guarda sono stati vaccini perché questo fa parte della propaganda poi c'è da dire questo il gioco vale la candela perché il vaccino io sono sempre detto sono stra favorevole per i vaccini quando questi servono per le malattie vaccino nasce come tentativo di bloccare delle epidemie gravi in malattie che non hanno delle cure ricordiamoci il vaiolo che fu il primo vaccino tutte le le morti le stragi di milioni di persone nella storia dell'umanità il vaiolo la polio e quant'altro ma su un'influenza non ha senso perché i rischi in cui superano i famosi benefici che benefici poi sono zero dal momento che la cosa comunque si risolve da sé e quindi entriamo nel capitolo dei rischi ormai un pochino tutti hanno sentito parlare di questa famosa ade ade la sigla in inglese di antibody dependent enhancement che vuol dire un aggravamento della malattia dipendente dell'anticorps tra l'altro la sigla in inglese suona anche molto funerea nella lingua italiana perché ci riporta all'ade all'oltre tomba degli antichi gravi ecco quindi già di per sé forse non è un caso però questo è uno dei pericoli più gravi vedete la maggior parte della gente dicevamo prima ha avuto l'infezione in maniera sintomatica dopodiché ci sono anche quelli che hanno avuto l'infezione in maniera sintomatica quindi che sono malati ammalati e che però hanno avuto la cronicizzazione di questa malattia di questo se ne parla poco ma è più pericolosa questa situazione rispetto a quella della fase acuta che comunque si risolve nel giro di pochi giorni cosa vuol dire cronicizzazione che il virus si è adattato all'organismo e si trova facilmente nei batteri famosi intestinali quindi continua a vivere all'interno di quello o addirittura può integrarsi nel nostro dna pure essendo un virus rna non è un retrovirus ma si comporta come un retrovirus e questo questo fatto è stato chiarito da uno studio pubblico sempre dell'anno scorso che che attesta che questo virus dimostra questo virus può integrarsi nel nostro dna allora una volta che si è integrato nel dna oltre a tutti i pasticci che può produrre a distanza di tempo perché in seconda di dove si integra questo si sa potrebbe scombinare dei geni e magari slatentizzare dei geni pericolosi che possono sviluppare negli anni malattie ma soprattutto una volta che lì lui convive con noi e quindi è suscettibile di uscire di si dice riattivarsi quindi risvegliarsi e attenzione che si può risvegliare per un'interferenza virale quindi se incontra un altro virus o soprattutto se immettiamo anche solo una parte del virus parliamo del vaccino famoso vettoriale di astrazeneca ad esempio che introduce la spike la spike di per sé è la parte diciamo prima più tossica è un primero cioè fatto di tre proteine di tre subunità che però hanno già di per sé una caratteristica di essere patogene per il sistema nervoso e per quello cardiocircolatorio quindi già di suo è cardiotossica e neurotossica ora che sia un fenomeno spontaneo dal virus o che sia perché i batteri intestinali che fagocitano il virus poi sputtano fuori per faccio un po fumetto delle sue parti proteiche come ad esempio la spike a questo punto la spike si comporta come un prione diventa un veleno che circola per il sangue per il corpo il virus non pare che circoli nel nostro corpo liberamente circola attraverso i batteri ma una sua parte come la spike si quindi iniettare come fa il vaccino vettoriale la parte più velenosa di questo batterio di questo virus la parte più più tossica vuol dire esporre a un rischio grave diretto dovuto alla proteina e poi a rischio appunto dell'ade che avviene quando il soggetto è già stato in qualche modo vaccinato dall'incontro o asintomatico o da malato con il virus però gli attenzione che gli anticorpi che vengono prodotti dai virus a rna a catena singola possono essere e si dice in gergo subottimali perché perché non raggiungono una quantità o una qualità tale da poter difendere da una seconda infezione in quanto questi queste categorie di virus formano in continuo quasi specie cosa vuol dire sono le famose mutazioni allora nel momento in cui io ho già avuto il virus ho creato degli anticorpi subottimali magari non neanche più di anticorpi sono di nuovo scoperto ma comunque in qualche modo quella memoria cosa succede che se mi arriva la seconda infezione del virus in questo caso veicolato dal dal vaccino essendo un virus non uguale ma simile cambia di pochissimo però non è mai non è più la stessa cosa parentesi voi pensate che ormai ci sono state decine di migliaia di mutazioni da un anno a questa parte più e il vaccino tutti i vaccini che sono in giro sono tutti modellati sulla sequenza che chiamata one 1 è stata quella del primissimo virus quello di one che la cina ha dato al mondo a febbraio dell'anno scorso quindi non è lo stesso varia di poco però varia in quel momento allora si può scatenare quest'ade che vuol dire che invece di essere questo virus una volta che viene acchiappato diciamo dai nostri anticorpi e portato nelle cellule come macrofagi e tutta una serie di cellule che presentano l'antigeno una volta che dentro nella cellula invece di essere spezzettato quindi distrutto per poi prendere i suoi antigeni metterli in superficie e presentarli alle cellule ai linfociti il nostro sistema immunitario lui tutto questo non avviene ma si moltiplica continua a vivere nella cellula nel macrofago e si moltiplica nel nostro sistema immunitario ecco voi pensate cosa vuol dire è sfuggito al controllo del sistema immunitario e a quel punto lui continua a vivere come se niente fosse ma nel momento in cui esce e riparte una nuova infezione è molto più grave di quella di prima le famose polmonite osinofile partono da qui ad esempio dottor cito mi scusi se siete d'accordo io mi inizierei anche a leggere qualcosa perché io sto vedendo diciamo quanti sono i collegamenti soprattutto capisco benissimo che i nostri ascoltatori sono estasiati e rapiti da quello che sta dicendo dottor cito infatti non ci sono tantissimi commenti perché sono tutti attentissimi ad ascoltare me ne è arrivato uno abbastanza pepato adesso su su whatsapp dove addirittura questa è una persona che comunque è orientata perché tra l'altro persona che fa parte delle forze dell'ordine dice probabilmente qui ci sono anche si ravvedono dei degli estremi per procedere a livello giudiziario per imperizia in curi e negligenza quindi sono tre capi d'accusa tra l'altro che i medici conoscono molto bene e sono tra quelli più gravi se dobbiamo usare un termine ma io andrei un attimo con alcune domande che sono arrivate dice massimo dice buonasera potreste chiedere al dottor cito di spiegare la differenza tra sequenziamento e isolamento del virus questa è la prima io ne raggruppo almeno tre se lei d'accordo e posso chiedere anche se dice danila il vaccino serve farlo con tutte queste varianti che a detta di medici continuano a cambiare lo stato delle cose e poi arrivo a silvana che dice il virus che possa cronicizzarsi dice questo è gravissimo e infine clara che dice montagnini una delle sue interviste parla delle efficaci di terapie basate su impulsi elettromagnetici qui dottore è campo suo al cento per cento io ne ho raggruppate alcune proprio per dare un'idea di quello che di quello che lei sta trasmettendo con una incredibile passione precisione e corretta informazione sì volentieri e se gentilmente me la ripeto una una perché io partirei con chiedere di spiegare la differenza tra sequenziamento e isolamento del virus sì allora allora intanto voglio specificare lo dico ogni volta io sono soltanto un medico non sono specialista in psicoterapia non sono né un virologo non immunologo limitato sono solo uno curioso come in genere noi medici siamo e quindi ho cercato io ho studiato sto continuando a studiare per capire un po meglio questa situazione questa è la premessa quindi molti hanno scritto che non è mai stato isolato questo virus io non credo in questo fatto perché ho letto l'opera di brogna anche con loretta bolgan con cui collaboriamo abbiamo invece diciamo più che la sensazione proprio ormai una certezza che viro sia stato isolato è vero che ci sono state delle fotografie al microscopio elettronico microscopio a trasmissione che potevano sembrare il coronavirus invece magari hanno degli esosomi quindi degli errori si possono fare a questo livello però io non credo che non sia stato isolato anche perché brogna ripeto addirittura isolato le proteine tossiche che sono prodotte da questo virus e cito l'alfa conotossina che la neurotossina responsabile dei problemi neurologici periferici e centrali e poi la fosfolipasia 2 che è una delle più importanti responsabili delle delle iperpopulazione delle tromboembolie assieme all'attivatore del protrombino quindi sono tutte cose che si sono viste sul campo il sequenziamento vuol dire cercare di riprodurre e questo si riesce a fare molto più facilmente rispetto ad anni fa la sequenza genomica del virus e nel caso di queste possibili cronicizzazioni andrebbe proprio ricercato sul materiale fecale avete visto che in in cina hanno preso da un po di mesi a fare i tamponi fecali ecco se se il virus si è cronicizzato è più facile trovarlo lì nei batteri intestinali ecco perché bisognerebbe e però bisognerebbe farlo prima di vaccinare bisognerebbe fare un sequenziamento fecale a tutti i pazienti che devono essere vaccinati magari anche un sierologico quantitativo certo ma non basta il sierologico da solo e a quel punto se c'è una positività assolutamente essere vaccinato come non devono essere vaccinati e devono essere esentati tutti quei pazienti affetti da sindrome allergiche cioè in pratica i disturbi i disordini diciamo del sistema immunitario quindi sindrome allergiche ma non è solo per la possibilità dell'allergia specifica verso un componente del vaccino è perché il suo sistema immunitario è già come dire in disequilibrio e quindi è più facile che succedano le complicanze tipo ade o altro poi quelli che hanno malattie autoimmuni e sono tantissimi questi pazienti tutti quelli che hanno tumori leucemie e linfomi o che hanno già delle riattivazioni virali si trovano molto spesso e io ho visto qualche caso di pazienti a cui la riattivazione virale di altri virus cito ad esempio quello della monocleosi infettiva l'Epstein-Barr virus che è uno dei più frequenti che si possono riattivare e a sua volta può essere poi causa di malattie autoimmuni ad esempio una volta fatta la cura ci sono voluti dei mesi su un paziente che adesso cito e era andato a posto sia il virus che era rientrato diciamo in Iran l'esame del sangue l'aveva confermato sia la patologia che aveva innescato improvvisamente qualche mese fa è riesploso tutto e guarda caso dopo qualche settimana che il paziente aveva avuto un'infezione in forma lieve di questa covid-19 quindi attenzione anche a questo fatto le interferenze virali che dicevo prima ecco spero di non aver divagato ma forse ho risposto alla domanda passerei alla seconda con Daniele che chiede con tutte queste varianti se è quindi utile o no fare il vaccino in parte abbiamo già risposto però se ci vogliamo ritornare quando l'industria perché attenzione non è la scienza che lo dice che rassicura e l'industria sono due cose diverse quando l'industria dice che comunque l'efficacia rimane direi che è corretto molto probabilmente l'efficacia rimane però attenzione che è proprio il discorso di prima delle quasi specie quindi è molto più alto il rischio invece di questa famosa ADE e attenzione che il vaccino favorisce le varianti e abbiamo visto il primo vaccino è stato fatto in Inghilterra guarda caso poche settimane dopo avevamo già la variante inglese quindi è un come dire un circolo vizioso in negativo più si vaccina più si fanno varianti e più ci sono varianti più ci si accanisce a vaccinare è completamente sbagliato si sa e questa è la pratica clinica ed è anche documentata dalla letteratura che non si possono fare vaccini sicuri per tutti i virus RNA a catena singola perché se no da 40 anni avremmo già un vaccino per l'AIDS da 20 anni avremmo già un vaccino per la SARS hanno provato anni fa lo trovate in letteratura parlo del 2016-17 in quel periodo lì hanno provato a fare la vaccinazione di massa in oriente per la Deng che è un flavivirus sempre RNA a catena singola e anche per l'RSV che è un altro di quella famiglia sono morti tutti e ormai il virologo sa che non ha senso puntare di fare una vaccinazione su questa famiglia di virus tanto più che voglio dire dopo decenni non si è trovato una vaccinazione sicura per queste malattie e come mai adesso in pochi mesi si è arrivati a una vaccinazione che viene spacciata per sicura ed efficace non dimentichiamo quello studio importantissimo pubblicato a gennaio sul British Medical Journal dallo stesso co-direttore Peter Doshi che ha studiato a fondo tutto il fascicolo delle 92 pagine di Pfizer ha avuto modo di studiarlo e che ha dichiarato che non esiste quel 95% di efficacia propagandata dall'azienda ma dai suoi calcoli arriviamo a malapena al 29% quindi abbiamo vaccini che sono inutili che non hanno l'efficacia per cui vengono appunto propagandati che sono altamente pericolosi quindi fermiamoci un attimo ecco prima di vaccinare così Rito, Laura avete domande perché qui ce ne sono cominciano a scatenare sì, no? ho anche proposto un po' alla dottor Citro quindi non so se vuoi proseguire con quelle eventualmente perché altrimenti io ce l'avrei una domanda sul fatto che mai volevo parlare un po' del ruolo della scienza e mai come in questo periodo abbiamo cercato nella scienza le risposte alle domande ai dubbi ecco ma siamo però sinceramente almeno io sono più confusa di prima anche perché ci sono dichiarazioni dei cosiddetti scienziati che dicono tutto il contrario di tutto e a questo punto mi chiedo e le chiedo ma ci possiamo ancora fidare della scienza? Della scienza sì dello scientismo no dobbiamo distinguere lo scientismo è diventata come una religione e lo troverete nel libro perché nella seconda parte quando appunto cerco di ricostruire il pensiero filosofico nella sua storia vedrete come fin dal 1600 parlo da Francis Bacon poi si è cominciato a la scienza ha cominciato a inchinarsi al potere politico e quindi a non essere più scienza perché la scienza vuol dire dal latino uscire, conoscere cercare di capire i meccanismi della nostra ricerca per il bene dell'umanità mentre oggi invece abbiamo l'industria che cerca ovviamente il proprio bene il proprio profitto non quello dell'umanità necessariamente che viene spacciata per scienza e dicevo prima vi dicono state tranquilli vaccinatevi non c'è nessun pericolo a parte che poi uno apre i giornali e ogni giorno vediamo alcuni che muoiono immediatamente dopo la vaccinazione non si può continuare a prendere in giro la gente perché io come ricercatore vi dico che è vero che non è automaticamente rapporto causa-effetto quando c'è un rapporto cronologico così breve però quasi sempre lo è e a fronte di decine o centinaia o forse anche migliaia di casi di questo genere dovremmo fermarci ricordiamoci che era nel 2001 l'anno famoso delle torri quell'estate ci furono una cinquantina di morti ve lo ricordate per il lipo-buy che era una statina sintetica della Bayer ecco morirono decine di persone venne subito ritirato da tutto il mondo come mai quando vengono ritirati i vaccini che tra l'altro sono stati approvati lo troverete nel libro in maniera fraudolenta perché l'approvazione per emergenza dei vaccini la cosiddetta fast track i quattro punti devono essere rispettati tutti altrimenti non si ha diritto all'approvazione al quarto punto prevede che non si debba dichiarare e qui è stato dichiarato il falso che non esiste nessun'altra cura se non il vaccino ora dicevamo prima è pieno di di terapie diverse e sappiamo che la gente può essere curata se viene curata e subito quindi tutta questa cosa dei vaccini questa commercializzazione si è costruita su una falsità perché senza quel quarto punto non avrebbero mai avuto diritto all'approvazione quindi qualche anche qui magistrato dovrebbe impugnare questa cosa e far ritirare tutti i vaccini da tutto il mondo tutti i vaccini abbiamo qualche difficoltà abbiamo qualche difficoltà con il dottor Cito speriamo che non sia causa di di tempeste magnetiche particolari tempeste citochiniche allora io volevo magari contattare con lui Whatsapp per farmi sapere che c'è un problema e se può ovviamente ricollegarsi con il codice che ha penso che si sia penso che si sia accorto che è uscito certo però magari giusto per verificare sta arrivando sta arrivando sta arrivando eccolo qua benissimo comunque voglio ricordare ai non spettatori che stiamo parlando del libro Eresia della dottora Massimo Citro prego dottore come è sparito poi per un attimo quindi può riprendere io non sono tecnologico visto sparire tutto scusate ok niente stavo dicendo quindi anche questo fatto per cui tornando alla domanda la scienza non è lo scientismo e non è l'industria aggiungo anche lo troverete che il sistema ha giocato sui termini e questa è una tipica strategia di condizionamento di massa fin dall'inizio vedete che quasi tutti ormai gli stessi virologi dicono il covid state attenti a questo è importante quando invece noi sappiamo che covid è un termine inglese che significa coronavirus disease quindi è femminile in italiano e connota la malattia da virus da questo virus mentre invece il virus che è maschile si chiama SARS-CoV-2 il covid non esiste è una crasi di questi due termini che è priva di significato quindi quando uno dice il covid non si capisce se parla della malattia o del virus e uno dirà va bene non è importante invece è importantissimo perché troverete poi nel libro che le statistiche sui morti sono state giocate proprio su questa ambiguità dei termini quindi che voi andate a vedere sul sito ufficiale del ministero e dell'istituto superiore di sanità voi trovate che hanno sempre scritto tot numero di morti positivi a SARS-CoV-2 non hanno mai scritto morti di covid e quindi morti della malattia erano morti con la positività del virus che vuol dire che anche quello che è morto perché è morto in un incidente stradale combinazione era un portatore sano era sintomatico aveva il tampone positivo viene catalogato poi da noi come morto di quella malattia ma siamo noi che lo estrapoliamo perché ci hanno messo in confusione i due termini però lo Stato scrive si limita a dire sono morti con il virus poi i giornalisti i media dicono allora è morto di quello dobbiamo stare molto attenti a cosa si dice quindi stessa cosa l'industria non è la scienza dottore immagino che lei non si sia vaccinato non abbia intenzione di vaccinarsi e adesso il vaccino è diventato diventa legge insomma sostanzialmente quindi obbligatorio per il personale sanitario e per tutti gli operatori del sistema della sanità lei cosa intende fare e cosa ne pensa anche di questa obbligatorietà obbligatorietà è contro la legge quindi è un'ennesima prova del fatto che siamo in una dittatura dove la democrazia è soltanto un ricordo ma siamo ormai governati e sfido chiunque a dimostrare il contrario da oligarchia quindi da un gruppo di persone un'elite come dicevo prima soprattutto finanziaria che decide ormai quello che deve essere fatto il Parlamento non esiste più lo Stato non esiste più eccetera quindi cosa fare e si andrà avanti a livello quelli che lavoreranno saranno gli avvocati e i magistrati perché è intollerabile questo fatto e per una epidemia curabile si debba obbligare la gente a rischiare la propria vita con il ricatto morale se non lo fai a male gli altri non è affatto vero non è affatto vero ecco quindi bisogna sì volevo dire sì volevo dire che comunque è uscito anche sui canali quelli detti ufficiali che effettivamente il vaccino non ci dà la garanzia che possa rendere in buono infatti c'è stata la dichiarazione di medici che sono stati vaccinati eppure hanno contagiato dei reparti quindi cioè è un'assurdità è un controsenso che si voglia continuamente continuamente a dire che è obbligatorio fare un vaccino quando loro stesso dichiarano adesso io non mi ricordo il nome del medico che ha detto questa cosa ma l'ha detta su Rai 3 o comunque sulle reti ufficiali se vogliamo appunto identificare ufficiali quindi non quelle complottiste no? come non sulle reti complottiste che medici che sono stati vaccinati hanno comunque contagiato quindi e c'era in prima fila mi ricordo la ministra Lorenzin che si guardava intorno un po' così destabilizzata per dire cosa sta dicendo forse non si può dire ecco quindi allora a cui si riferisce è il collega Lopalco e lui ha riportato perché è verissimo perché in letteratura recente ci sono state delle RSA anche completamente infettate da personale medico paramedico che era stato quindi vedete se uno pretendesse con la forza di obbligare alla vaccinazione il soggetto deve rispondere prima di tutto deve esigere tutti gli esami che dicevo prima cominciare dal sequenziamento eccetera ma poi deve dire all'altro ma tu come puoi garantirmi che non mi succederà niente né adesso né nei prossimi anni perché non c'è letteratura non c'è esperienza abbiamo degli impianti igienici impropriamente spacciati per vaccini mi riferisco alla mRNA sintetico di Pfizer Moderna e CureVac che non hanno letteratura quindi stiamo facendo una sperimentazione sull'essere umano in questo momento che è contro l'etica contro la legge contro i principi della medicina la fase 3 famosa viene effettuata adesso e finirà nel dicembre 2022 per Moderna e nel 23 per Pfizer quindi la gente deve sapere che sta facendo una sperimentazione e si vaccina lo rischio e pericolo allora io direi all'altro tu mi devi dimostrare me lo devi dichiarare mi devi dimostrare che non mi succederà nulla ma mi devi anche allegare degli studi scientifici pubblicati che attestano questo attenzione studi che non devono avere conflitti di interesse perché molti studi sia sull'efficacia di questo vaccino Pfizer soprattutto sia quelli che hanno come dire screditato per più di un anno l'idrossiclorochina io li ho passati tutti erano tutti viziati da conflitti di interesse o comunque sponsorizzati o da industria farmaceutica o da agenzie collegate con la famosa fondazione del signor William Henry Gates terzo che non è solo l'uomo più ricco del mondo ma è l'uomo che ha più interessi nei vaccini che sta non si sa in virtù di quale investitura obbligando il mondo soprattutto il terzo mondo a vaccinarsi questo succede da tantissimi anni provocando morti e disastri di ogni genere che sono riportati anche nel libro ecco quindi riportiamo ribaltiamo la palla all'avversario dimostrami tu che non succederà nulla nel mio futuro da vaccinato volevo rispondere le domande che però avverrà la parte della massa comunque sia e anche se uno di noi dovesse fare questa domanda non ci danno una risposta la risposta allora uno ha un famoso consenso libero informato che tra l'altro non è più libero in quanto uno è costretto a firmarlo quindi essendo oggetto di costrizione sarebbe un falso firmare un certificato che è detto libero ma io penso che ognuno di noi debba pretenderlo perché vedete se guardate questa legge questo decreto legge che è uscito il primo aprile beh è tutto basato sull'ideologia di salvare la comunità ma non c'è una parola tra nell'articolo il comma 2 che è quello che appunto dice i casi di malattie che possono essere sentate ma non c'è una parola di rassicurazione o di presa di come dire di interesse nei confronti del singolo che invece deve immolarsi nei confronti della comunità ma questo neanche nel peggiore comunismo penso che sia ma dottore Micardoni perché stiamo arrivando qua in conclusione sono due domande io direi ce ne sono tantissime una di Riccardo che parla di pazienti con fibromialgia quindi io immagino quali rischi ci siano e Chiara ci chiede chi ha problemi al fegato con un fegato cirotico quali rischi quali sono i rischi che corre per essere vaccinato sono queste due che mi sono balzate all'occhio abbastanza corposo la fibromialgia va esentata perché è considerata una malattia autoimmune e quindi comunque deriva da un disordine immunitario per cui io medico non mi prenderei mai la responsabilità di vaccinare un fibromialgico i problemi del fegato in teoria non dovrebbero controindicare questo tipo di vaccino però bisognerebbe tenerne conto anche di questo comunque vedete vaccinarsi non vuol dire non è come bere un bicchiere d'acqua vuol dire mi assumo comunque dei rischi i rischi che si potevano assumere pensate nel 1796 quando Jenner fece il primo vaccino per il vaiolo i rischi che si potevano assumere nei primi dell'ottocento in Inghilterra erano tantissimi già allora poi pensiamo un vaccino contaminato non era certo quello di oggi però da una parte c'era il fatto che con il vaiolo morivi e quindi era un'epidemia che non è quella attuale insomma abbiamo io ho citato nella storia la famosa peste Antonina ad esempio siamo a Roma nel secondo secolo dopo Cristo era una peste di vaiolo un'epidemia di vaiolo una vera pandemia per quell'epoca perché fu portata probabilmente dalla Persia quando Lucio Vero che era l'imperatore in quel momento fece la campagna contro i parti e la portò poi a Roma e poi le legioni la disseminarono per tutto l'impero quindi morivano in quegli anni a Roma all'epoca 2000 questo lo dicono gli storici 2000 persone al giorno di vaiolo e si è calcolato che circa 5 milioni di persone nel mondo a quell'epoca morirono compreso lo stesso imperatore Lucio Vero di vaiolo quindi queste sono catastrofi o pensiamo anche alla peste insomma quelle della storia ma oggi non siamo di fronte a questo siamo di fronte a una sindrome influenzale che può avere un aggravamento spaventoso e che va evitato che si può evitare torniamo al discorso iniziale basta curarli i pazienti tutto lì non c'è bisogno di nessun vaccino quella domanda Alberto che avevi fatto prima al dottore era quella di Clara dove parlava di Montagné una sua intervista parla dell'efficacia di terapie basate su impulsi elettromagnetici lo zappero o terapie di biorisonanza possono essere consigliate? è vero c'è anche questo possono essere consigliate e forse ci va anche qualcosa di più in questa situazione noi la stiamo studiando in questo momento stiamo sperimentando delle cose in letteratura vi posso dire che ci sono pochi lavori ma ci sono ad esempio c'è uno studio non l'ho riportato nel libro ma c'è uno studio che ho a casa dove con determinate onde parliamo di gigahertz in quel caso se ricordo bene 8,4 gigahertz dei virus influenzali venivano inattivati nel giro di pochissimi minuti sono cose pubblicate quindi non è difficile pensare questo vale per tutti i virus che un aggregato molecolare di questo genere possa rompersi come vediamo al microscopio quando viene a contatto con l'ossigeno ad esempio in 20 secondi un virus scompare si distrugge quindi apre la porta davvero a un grande campo di ricerca Montagnera ha ricordato un fatto che è ormai ben conosciuto solo che ovviamente va a scontrarsi contro gli interessi industriali della chimica ecco perché non sono parte però esiste con l'opportunità adesso posso fare un'altra domanda so che siamo un po' fuori tempo e ci sono no no ma no ma sai perché perché in effetti intanto volevo ricordare che sono diversi gli argomenti che vengono trattati nel libro Eresia dalla dottor Massimo Citro perché vuol dire a partire dal virus poi si parla anche del laboratorio di Guana anche diciamo di quello che è un po' chiamato la fermo Montagnè che il dottore poi chiama poi anche la chimera svelata cioè sul fatto se sia un virus ingegnerizzato oppure no ma ci sono a quanto pare dei gruppi di ricerca che hanno fatto degli studi per accertare proprio il fatto che comunque il virus è un virus ingegnerizzato ma poi si parla anche dell'organizzazione mondiale della sanità della pandemia all'italiana il remus dei dati poi lei aveva citato prima il Lancet Gate ma lasciamo ovviamente le persone che stanno seguendoci scoprire tutto il Lancet Gate e ovviamente tutti gli altri interessanti argomenti sul libro Eresia della dottora Massimo Citro poi però c'è anche tutta una seconda parte che parla un po' di retroscena di questa rappresentazione che è molto interessante perché ci sono poi anche delle citazioni storiche tra l'altro il dottor Massimo Citro ha approfondito moltissimo ha scritto anche tra l'altro un romanzo che ci parla di storia ci parla di eugenizzazione insomma di eugenetica anzi no forse per esprimermi in maniera corretta ci sono veramente tanti ma tanti argomenti interessanti ma le chiedo so che lei in qualche caso ha citato anche il quantum dot e il 5G le chiedo questo argomento è all'interno di Eresia oppure no? Sì è citato in Eresia ma per un semplice fatto che a marzo dello stesso anno in marzo e anche in aprile sono usciti vari articoli dove il signor William Gates ha più volte ricordato che con una tecnologia messa a punto dal MIT loro potevano inserire i quantum dots nei vaccini io non lo so non credo che siano già in questi vaccini però nessuno può dirlo cosa sono questi quantum dots? Gates parlava quindi non è complottismo perché lui stesso che lo sta infatti stasera abbiamo parlato di tanti argomenti che vengono poi in qualche modo classificati per così dire no? non dobbiamo permettere queste derive perché il libro ha più di 500 citazioni bibliografiche quindi non si possono negare le cose che sono pubblicate quindi tornando ai quantum dots è stato proprio Gates ad annunciare questo inserimento nei vaccini che dovrebbero essere sotto forma di tatuaggi invisibili se non agli infrarossi e in questo modo il soggetto avrebbe la codificazione di quello che è stato iniettato quindi con un lettore infrarossi uno può dall'epidermide dedurre se è stato vaccinato quando come e in che modo eccetera quindi questo è quello che lui dice inserendo queste che praticamente sono delle nanotecnologie che però hanno la caratteristica e questo che è stato omesso ma è agli atti comunque hanno la caratteristica di poter essere messe in entanglement termine che fu inventato diciamo dal famoso premio Nobel Erwin Schrödinger per indicare una correlazione una comunicazione non locale che esiste nella fisica quantistica non locale vuol dire che se io ho una particella è descritto ma poi lo si trova in internet se uno vuole approfondire è dal 1982 che si fanno questi esperimenti comunicazione non locale se io prendo due particelle imparentate perché magari sono due particelle gemelle nate da un'unica particella iniziale e una la metto a Parigi fu fatto il primo esperimento da Alain Aspect nell'82 e l'altra la porto lontanissima ad esempio negli Stati Uniti a New York e a quel punto faccio qualcosa di fisico sulla prima particella mettiamo quella di Parigi le due non possono comunicare attraverso una tutti quei chilometri non è pensabile questa cosa ma se io altero il suo spin attraverso dei campi elettromagnetici su una delle due anche l'altra in contemporanea nello stesso momento in tempo reale si altera senza che nessuno le abbia fatto nulla questo cosa vuol dire in via teorica se sottolineo come diceva Mina sottolineo se hanno messo o metteranno un domani nei vaccini questi quantum dots beh la possibilità che siano stati messi in entanglement è reale prima della della vaccinazione ovviamente in entanglement vuol dire che se Rita mettiamo viene vaccinata per questo per un qualsiasi patogeno e dentro ci sono queste nanoparticelle in entanglement vuol dire che nel suo corpo vita natural durante rimarranno e se Rita si comporta bene non succederà nulla ma se incomincia a essere politicamente scorretta comunque a dare fastidio al sistema è plausibile ipotizzabile che qualcuno dall'altra parte del mondo possa in come dire alterare il suo equilibrio psicofisico attraverso delle frequenze che viaggiano in tempo reale per la intanglemente di Schrödinger che diceva prima ecco molto sinteticamente è questo ma se ne potrebbe parlare molto più diffusamente teniamo anche conto che come stavamo detto prima questo virus è comunque ingegnerizzato su questo non ci sono dubbi la storia dell'HIV è stata ritrovata da almeno altri nove gruppi di ricerca diversi ma poi vedete i coronavirus sono delle entità non viventi sono delle entità che esistono da milioni di anni dalla preistoria e nei loro passaggi facendo le famose quasi specie quindi sono molto vivaci si alterano in continuo nei loro passaggi nelle varie specie animali si sono tirati dietro nel loro RNA nel loro genoma sequenze di qualunque tipo però quindi è facile trovare sequenze strane in un coronavirus però che questo SARS-CoV-2 sia l'unico per il coronavirus ad avere almeno 4 brevi sequenze dell'HIV che si è dimostrato beh questo è molto particolare non è una mutazione non può essere naturale ma se poi aggiungiamo quelle delle cronotossine che ha scoperto Brogna che sono delle tipiche neurotossine delle lumache croniche dei mari tropicali e subtropicali uno si chiede che cosa ci sta a fare in un coronavirus una di quelle lì la fosfolipasia 2 che è un veleno di serpente cioè sono tutte cose troppo particolari ecco quindi chiudo dicendo se il sistema ha mentito già sull'origine del virus come si fa a credere a tutto quello che viene detto da lì in poi ecco questa è la domanda non mi ha detto però la relazione tra il quantum dot e il 5G visto che si parla di una relazione tra l'uno e l'altro quindi è attraverso il 5G che è vero no no non necessariamente il quantum dot può esulare completamente il 5G potrebbe creare dei problemi ma lì è ancora tutto da dimostrare ok ci sono dei studi teorici no no il quantum dot nel momento in cui io le ho messe in entanglemente in partenza le due particelle lo semplifico in questo modo una la tengo io e l'altra la mando in un altro sistema solare le due continueranno a comunicare indipendentemente dalla distanza in chilometri quindi è un fatto imprinseco alla natura delle particelle questo nella fisica quantistica ma nessuno è mai riuscito a dimostrare né perché succeda né il contrario che questo non succeda e siccome io quel quantum ce l'ho lavorato anni fa in ricerca in laboratorio ovviamente erano i quantum dots che si possono acquistare e sono messi in dei patch che uno dei cerotti che uno applica sull'epidermide quindi poi si tolgono e non si creano dei danni facevamo queste prove abbiamo visto che la trasmissione di frequenza funziona con questi cerotti quindi però attenzione che nel momento in cui vengono iniettati nel corpo uno non si li toglie più e l'altra parte della coppia ce l'ha in mano il sistema cioè colui che ha fatto il vaccino e se tu dai fastidio a quello che ha fatto il vaccino non so come possa finire bene per quella persona è sempre è plausibile ecco allora qui ci sarebbero tantissime domande ma certamente io direi se siamo tutti d'accordo soprattutto se è d'accordo dottor Citro sicuramente ricordare intanto anche il suo contatto eventualmente perché ci sono persone che chiedono anche di poterlo incontrare di persona quindi e questa è una cosa che giustamente faranno attraverso i suoi contatti quindi intanto come possiamo far sì che il pubblico la possa contattare dottore non saprei dire anche perché io non sono già difficilmente contattabile da me stesso io in questo in questo posto in isolamento per mia scelta di vita ormai da anni e quindi mi sono staccato dal mondo e vivo nella mia dimensione il mio contatto con il mondo è quando rientro in città per fare per svolgere la mia missione come medico e lì dalla mattina alla sera ho il lavoro la ricerca e tutto il resto quando ho del tempo libero studio quindi non vedo degli spazi possibili per fare altri incontri è già difficile veramente gestire il tutto ma se qualcuno le volesse scrivere dottore possiamo indicare magari un punto un recapito per farle arrivare qualche indicazione qualche richiesta ma dire al momento no perché già ne stanno arrivando cose che non potrei come gestire grazie da dire tantissimo è molto corretto quello che lei sta dicendo allora tra chi sulla chat vorrebbe mandare in galera i politici e non i ministri e non e invece chi giustamente lasciamo lo spazio certamente a tutti la libera volontà di espressione e ritorna preponderante anche quella parte legata all'energia cioè Andrea dice bisognerebbe tornare a percepire l'energia delle persone ben più importanti delle parole che loro dicono l'energia non può mentire e forse anche un po' la cura che potremmo dispensare per cercare di galvanizzarci di schermarci di fronte a tutte quelle notizie negative che sono piovute da tutte le parti che certamente non hanno aiutato le persone ad uscire da questo impasse e ci saluta anche questo bellissimo ragazzo allora io risponderei dicendo questo è corretto il discorso dell'energia ma voglio ricordare che noi siamo quell'energia e che la prima cosa che dobbiamo fare secondo me è buttare le televisioni tutto questo clamore mediatico del mainstream che tra l'altro è falso per la maggior parte ma è fatto per condizionare ritroviamo noi stessi ho riportato la frase del Petraca che amo tantissimo quando scrive restituisci terza e medesimo restituiamoci però nel silenzio ecco perché uno deve veramente isolarsi da tutto questo è l'unico modo per sottrarsi ai colpi beceri e grossolani da parte del sistema e nello stesso tempo riprendere la coscienza che noi siamo entità spirituali che interpretano per un breve periodo sullo scenario sul palcoscenico di questo universo interpretano un personaggio quindi non identifichiamoci e in questo modo l'abbiamo persa questa consapevolezza e siamo diventati preda della paura del terrore vedete che la gente è aggrappata alla vita in una maniera che non si è mai vista io mi ricordo 50 anni fa ero bambino ragazzo e c'erano delle sono state delle epidemie le ho citate anche come quella di Hong Kong anche peggiore come numero di morti e di infettività rispetto a questa che venivano vissute tranquillamente e serenamente perché vabbè al limite muori oggi sembra un delitto dire questa cosa ma non dobbiamo restare così aggrappati alle cose devo per forza fare quello che mi obbligano a fare perché se no mi danno la multa ma chi se ne frega ti stanno portando via la libertà la vita noi siamo entità non di questo mondo voglio ricordare la frase che in tutti i Vangeli è che l'insegnamento di Gesù e non sto parlando di Chiesa perché la Chiesa è completamente assente in questa storia anzi è completamente contraria alla gente perché una Chiesa che si permette di obbligare i fedeli alla vaccinazione non solo ha infranto il concordato dei patti lateranensi ma è contrario alla sua missione spirituale perché si sta occupando di cose che non la riguardano ma non parlo di Chiesa io parlo del Vangelo di Gesù tutto quello perché siamo cristiani potrei citare altri maestri di altre filosofie o religioni che ci dice siete nel mondo ma non siete di questo mondo vogliamo ricordarci che non siamo di questo mondo e che questa gente non potrà mai farci nulla se al limite ti ammazzano va bene ma cosa hanno cambiato non toccano la nostra il nostro essere anima il nostro essere spirito non possono farlo possono toglierti delle cose materiali noi ce ne infischiamo perché tanto è una realtà virtuale anzi per concludere il discorso che è iniziato su quantum dots sappiamo bene perché la fisica di oggi così come la filosofia di ieri non fa altro che e l'avevamo detto anche quando ero venuto da voi a Piacenza non fa altro che ricordarci che questo universo non esiste in realtà è una realtà virtuale è una realtà olografica frattalica e non locale quindi siamo dentro un sogno una rappresentazione la stiamo apprendendo troppo sul serio riprendiamo la nostra dignità non solo di esseri umani ma soprattutto di esseri spirituali scusate ma secondo me ci voleva assolutamente assolutamente perché stanno arrivando tantissime eh azioni proprio di speranza su quello che lei di ringraziamento su quello che lei sta dicendo dottore ci sono anche dei saluti e questi bisogna farli perché ci sono dei degli amici che hanno necessità di far arrivare il loro saluto uno è la dottoressa Amanda Castello uno è uno è l'amico Gian Piero Giorgio Terziani e e poi abbiamo Emiliano Toso il biologo che lei conosce bene e musicista ciao Emiliano un abbraccio forte tutti e tre li ringrazio li abbiamo tutti qua allora io lascerei le donne alla chiusura prego vai Laura no vabbè l'aspetto spirituale toccato dal dottor Citro sapevo che sarebbe stato fatto anzi era assolutamente auspicabile il fatto appunto di ricordarci che siamo in questo mondo ma non ne facciamo parte quindi questo è importante e che altro dire io voglio così condividere con tutti e con il dottor Citro la mia amarezza nel vedere che nonostante ci siano tanti messaggi che fanno comprendere la farsa e la menzogna in cui siamo stati calati ci siano ancora così tante persone che non riescono a vedere questa questo velo di maia questa falsità ecco dico menzogna falsità come la vogliamo dire sì è la favola del re nudo quando il sistema ti condiziona pensate a quelli che stanno giorno e notte davanti alla televisione ormai è una ragione di vita questa epidemia se gliela togli non sanno più che cosa fare quindi quando sono così condizionati loro vedono quello che non c'è e non vedono quello che c'è molti si rifiutano di voler vedere poi non dimentichiamo che ci sono c'è una grande percentuale della popolazione che vive nel sistema che vive grazie al sistema voi pensate che i giornalisti che raccontano le menzogne sui giornali sui vari canali della informazione siano degli stupidi no è gente che è obbligata a scrivere quelle cose perché sennò perdono il posto ho così i colleghi in un pedale che sono obbligati a fare certe cose sì ma l'abbiamo visto anche con colleghi che parlano in televisione io non ho la televisione però ho visto su internet queste cose quindi prima dicevano certe cose poi hanno cambiato parere probabilmente lì qualcuno li ha minacciati li ha messi davanti l'out-out cioè se vuoi continuare a essere primario professore universitario devi allinearti il sistema è lì che il sistema ormai si è radicato ma non dovevamo permetterglielo e sono almeno 50 anni che è visibile sempre di più l'azione del sistema il popolo viene distratto dalle televisioni dai computer da tutti questi aggeggini malefici questi ordini che usano perfino i bambini ormai ecco e quindi non ha possibilità di esercitare uno spirito critico di ragionare su quello che succede io dico solo una cosa osservate e ragionate basta non c'è da credere a questo o quell'altro osservare tutto lì c'è una bellissima fase di chiusura di Fidelio dice grazie dottor Cito dopo una brutta giornata una gioia nella luce questo qui penso che sia il più bel regalo che ci siamo fatti questa sera con questa chiacchierata se me la grita grazie prende spunto ovviamente dal libro scritto dal dottor Massimo Citro che si intitola Eresia riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di covid 19 praticamente queste riflessioni come abbiamo sentito anche durante questa serata intendono un po' esortare il lettore a ritornare a considerare i fatti un po' in modo obiettivo e non attraverso il clamore mediatico e anche ad esaminare tutte queste tutte le coincidenze che ci sono attorno a tutto questo perché dice il dottor Citro quando le coincidenze sono tante è sempre arduo pensare alla fatalità è così vero dottor Citro perfetto ho anche citato mi pare la frase di Kennedy che i grandi eventi della storia non accadono si fanno accadere e questo è un grande evento purtroppo è vero e anche una frase di Ettore Gotti tedeschi che lei ha citato che nell'epoca dell'inganno del politicamente corretto esprimere pensieri politicamente scorretti è il primo e più potente atto abbiamo iniziato parlando appunto di eretico di eresia e terminiamo con questa frase dottor Citro grazie mille per la sua disponibilità per la sua competenza per le cose che ci ha raccontato che troveremo poi bene spiegate e documentate con tutti questi studi scientifici che lei ha voluto anche riportare nel libro eresia e quindi ci sono tanti argomenti che non abbiamo trattato questa sera ma che sono all'interno di questo libro vale la pena ovviamente comprarlo e leggerlo con grandissima attenzione poi ognuno di noi potrà ovviamente farsi così avere una propria opinione dopo avere letto e avere sentito anche l'altra campana e non soltanto quello che ovviamente possiamo sentire dalle televisioni io ringrazio voi e voglio ricordare in chiusura di non dimenticare che non siamo di questo mondo per cui non dobbiamo avere paura del mondo il mondo se volete glielo possiamo lasciare al sistema perché loro sarà il mondo ma nostro è il regno dei cieli che vuol dire la dimensione reale nella quale noi esistiamo anche in questo momento grazie grazie buona serata a tutti grazie a tutti per averci seguito a tutti i giorni per una nuova puntata di It from Qbit grazie grazie per l'attenzione e la pazienza grazie grazie a tutti